questi qua questi qua grazie mille mad questi qua c'è io ho a che fare con dei copioni che non sanno fare il loro lavoro fatto il fatto che non vengono mai in live da me mai mai copiano le idee del canale telegram neanche mi dicono bravo gatto belle idea te la copio poi si dimenticano di mettere le parole per il ride fortuna che c'è luco che è il migliore dei termosifoni c'è copioni questi qui grazie ad orni grandpa ho copiato te e manu è vero ma io me ne sono sopato i coglioni di copiare te e manu anche perché ieri ti ho raidato non rompe i coglioni allora lo copiano perché lei a stile hai visto non diffidate non diffidate anzi non vi fidate delle brutte copie scegliete solo gatti sul tubo un video originali buonasera buonasera che si fa oggi oggi si gioca player non tutti i bastardi tutti dentro il buco del culo in italiano giocheremo giocherò nel test server grazie rocket raccoon perdonatemi la tosse non mi abbandonato per tutto il giorno giocheremo il test server e c'è un piccolo problema sono tutti pro player forti come la merda sono veramente tutti fortissimi quindi metto già le mani avanti sapete che non sono un pro player spesso volete di succo molto probabilmente stasera mi vedrete succare molto di più perché ho fatto delle prove oggi pomeriggio a fatica sono riuscito a togliere metta vita 1 che comunque mi ha ucciso è stata veramente dura quindi faremo molte partite questa sera grazie a schia bla 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 che facciamo donazione termo se non a lei e no vedi e no saranno tutte vergini esatto tanto mi scappa anche la pipì perché non sono riuscito ad andarla a fare nel mentre e me la tengo me la tengo a meno che non mi scappi troppo dopo allora niente all'angolo on jason rules ah no volevo dire sono subbo grazie mille per questi otto mesi termoscopioni e potrebbe essere la parola del ride di domani mattina sono più forte non è vero ma ricche corte sì perché con la finestra chiusa e la chiusa si crea un clima adatto alla manica corta con i picciu grazie mille che prima un'attarizzo sulla sedia può andare a farla dai hai visto dove 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 l'ho messo era qui lanciolato mi rubano ah no eccolo qua eccolo qua dopo dopo lo facciamo lo facciamo dopo dopo facciamo la pipì no cittoni non credo nel test server vabbè dai vediamo le lucine di ieri sera sono qui adesso anche me le devo mettere ogni sera diventa un po strano dopo no se ho amazon prime possono subbarmi sì gunther i mod ti insegneranno come con un link magistrale e utilissimo tra l'altro adesso il bot ogni tanto dovrebbe aspetta vediamo giorni neri hai visto hai visto abbiamo un link referral per il il black friday non so se vi posso spoilerare cosa ci sarà domani non lo so se lo posso fare quindi magari lo faccio domani mattina cioè ho visto già della roba interessante c'è già della roba interessante in questo momento nel caso vogliate utilizzate quel link lì e poi dopo fate quello che vi pare ok e fate fate così fate così ho già adocchiato un paio di allora ci sarà ficcanza nulla di trascendentale però vi dico se amate me e la mia illuminazione serale potreste portarvi a casa una cifra interessante quello che io possiedo nella mia illuminazione serale grazie grazie white polaroid senza mettere troppe se vi interessa c'è la killcam sai che non ho mica vista giotto come si fa a metterla devo mettere nelle impostazioni acquisisci video come vedete in italiano grazie mille tell one no tell never verio mama grazie in gioco bisogna metterlo ah vabbè andiamo qui tipo di daltonismo non ce l'ho mostra personaggio di inventario si non sono mica dottor disrespect accovaccia di equipaggiamento a schermo slotarma a schermo si ah ecco qua ecco qua icona kill feed interessante va bene mi sono fatto i capelli rossi oggi potrebbe crashare dopo la killcam vabbè andrò a farla pipì nel mentre non era quella come come più giù merda adesso vediamo è quella lì che ho messo io che cos'era impostazione aspetta un attimo eh icona kill feed la togliamo allora ed era più giù ah killcam ce l'ho disattiva bisognava mettere dal menu prima dalla lobby aspetta la voglio mettere la voglio vedere ok eccola qua killcam si chiama proprio killcam ok vediamo vediamo un po' come va tacchete va che bella maglietta che indossa il gatto potete averla anche voi visto quindi se giocate bene le vostre carte cliccate bene il mio link domani potreste portarvi a casa delle luci che seguono i vostri desideri potrete dire al vostro telefono di cambiare le luci e lui ci deve stare perché è il vostro telefono insomma non è il telefono di qualcun'altro forse è il telefono magari di vostra zia che abita in campagna magari non lo fa però visto che il vostro telefono è in casa vostra lo lo potete utilizzare per cambiare le luci insomma si può fare si può fare è una cosa che faccio tutte le sere si può anzi dovreste dovreste grazie a Luca che fa tante grazie mille e anche a Pestalozzi da Vicenza a Milano ora mi sono trasferito e posso ricominciare a seguirti grazie mille sono contento quindi fatta no? il 94 partecipa ti turba non so se comprare altre luci perché non erano così a buon mercato in realtà quelle aggiuntive però il kit iniziale aveva un'ottima cifra però non vi posso dire niente perché c'è un contratto di riservatezza non so perché ma l'audio è sparito oh sento un cazzo cari sono le luci vedrete domani 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 che fretta che fretta che ci avete che ansia che ansia si vede che siete giovani siete giovani siete in ansia volete sbrigare state tranquilli eeeh che cos'è dai un po' di pace eeeh dai su tranquilli esatto non fate riscrivere le cose a Gabriel mille volte leggetelo una volta e basta eeeh eccoci qua se lasci il paracaduto e muori eh si allora vi ricordo che sono tutti dei pro player qui quindi sicuramente morirò nel giro di poco però già che ci siamo intanto notiamo le differenze con il gioco intanto abbiamo un hud un po' più squadrato diciamo adesso ho tolto anche il v-sync voi non dovreste vedere eh differenza nel monitor vedo io che c'ho un tearing che mi sta segando via gli occhi a voi non dovrebbe fregare più di tanto la cosa vediamo un po' tutto più affilato ecco un po' tutto più eeeh squadrato vediamo questo 88 vivo come una squadra di calcio adesso è diventato un 87 chiaramente come in linea ecco poi vediamo la mappa è cambiata non è più eh gialla ma è una scala di grigi che può piacere come meno a me sinceramente non dispiace non sono meno visibili alcuni edifici ecco quindi boh non lo so bisogna vederlo alla lunga mister leccio e dopo il 2 dovrebbe esserci il 3 ma con i minori di 3 che ti dico quando ci ho messo a capire cosa volesse dire che perché mi vergogno va bene grazie mille eh è il minore di 3 ci abbiamo fatto anche l'emoto però come hai fatto a non capire eh ho fatto apposta ho fatto apposta però grazie allora il ciò che lo raccolgo sempre ormai ce n'era uno anche lì però mi stanno già massacrando tantissimo pom 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 ah guardate che bello no tua mamma puttana ecco hai visto guarda guarda eh il futuro del gaming signori eh il tavolo eh eh e la svolta la svolta è vero guarda salgo sul divano come si poteva già fare eh ok cazzo ho raccolto cosa ho raccolto eh oh vabbè ah adesso si sente questo queste esplosioni qui anche quando non sei fisicamente vicino alla alla red zone però figa io mi cago sotto ogni volta affanculo ho trovato finalmente un giubbino non sto trovando un cazzo ma che due palle sembra più fluido oddio non so dirti eh anche perché ho tolto il v-sync con l'altro giocavo sempre con il v-sync quindi non posso mi fa veramente cagare senza v-sync devo essere sincero però effettivamente non è una cosa che dovrei utilizzare non si dovrebbe usare il v-sync però figa le seghettature sullo schermo mi fanno schifo però ti rovinano un pochino diciamo la capacità di vincere ecco 4x come sentite il bombardamento è abbastanza prepotente anche l'audio è veramente power max power non si abbrevia e qui avevo guardato si avevo guardato andiamo avanti penso esca a metà dicembre sui server normali eh la madonna va bene hai visto le grandi cheats non sto trovando nulla di effettivamente io sto andando in giro con un micro uzi vorrei far notare questo toh guarda ci mettiamo anche il caricatore rapido comoda questa cosa qui perché almeno la traduzione mi fa capire quale caricatore è così al volo questa è una cosa molto comoda no anzi dell'extender del quick extender del cazzo extender del bye bye extender perché no eh abbiamo solo questo e dobbiamo va ci arrangiamo no tacchetti bravo salta hopla che bello cazzo zeinello di livello 2 colpi del pompa pompa eh si ci arrangiamo come possiamo ho fatto una cazzata allora te adesso mi spieghi com'è possibile che io avendo due armi due armi sia riuscito a lasciarne giù una scusami non era qua la balestra no non ho caricato il pompa ma perché volevo di sotto che cazzo era la balestra ho perso il micro uzi ho perso hai messo fucile al posto dell'uzi ahhh non sono un coglione sono doppio coglione iscrivetevi dov'è era qui no eccolo qua risolta non senza fatica ma risolta la partita del stasera sono in sub no 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 sinar non gioco con nessuno sto facendo il test dei server scusatemi scusatemi sto giocando al test dei servers top 15 50 50 50 50 adesso lo facciamo sempre e ormai milkshake l'ho già raccolto da mezz'ora mio dio allora un occhio alle ultime due case e poi via come delle stronze anguille quella l'ho vista non mi ricordo più sto invecchiando male ragazzi 50 e 15 e 15 lo so lo sapevo eh lo sapevo si lo sapevo la usa in alimentare ma perché dovete scrivere caccate per cortesia ragazzi dai dai ragazzi non scrivete le caccate per piacere per piacere non scrivete le caccate no caccate no caccate please noto dei referenti sono matto no no ce ne sono sono minime ma ci sono ci sarebbe le M4 però avevo ripromesso di mantenere di più scarelle in tasca silenziatore no più scarelle in tasca e più felicità nei cuori e allora ci teniamo le scarelle effettivamente effettivamente c'è anche da dire che ho il pompa in tasca che contro questi pro player magari non è granché quindi scarelle ed M4 belli come al solito tutti e due minino 4x qual è che fa più danno da distanza allora potenza cadenza di tiro stabilità cazzo non ho capito aspetta che mi devo sbrigare chi è? Giovanni aspetta ha raccolto quello che gli pareva lui ah fanculo M4 ovviamente è da distante sì non lo so non volevo fare la domanda da strozzo non lo so proprio che magia che magia eh ho capito dovevo scendere però l'antrodotto dall'italiano è il test dei server leggete il titolo della live però anche voi che risposta è 4x Michele? mettilo nello scar è più stabile M4 della distanza io non vi sto capendo più ragazzi io non io non lo so non vi capisco più ma gli ho cambiato anche la moto e dei tasti tranquillo Sennar tu sei perdonato solo tutto gli altri no che schifo mi sei rimasto solo tu Sennar questione di gusti ne ho raccolto lo scarlo troppo pressoché identici ma infatti manco io per quello cazzo hai raccolto adesso ma guardate c'è ancora i pallettoni vaffanculo ok Zeno sempre di livello 2 ho visto robe la risposta è scegli tu tranquilli se siete appena arrivati se siete stronzi guardate abbiamo risolto la questione perché star qui a pensare cosa va dove qua non possiamo avere entrambi non vedo non vedo perché star lì a cruciarsi ulteriormente no aspetta un attimo mi sta arrivando il gas nel culo ma io non ero uscito dalla zona dove cazzo è la moto io non ho capito ah no va bene non è tanto il loot pare abbastanza buono eh oddio paffina non giudichiamo dalla prima partita perché non è delle volte ci è andata anche di più di culo non vuol dire niente anche perché ti ricordo perché per un bel pezzo siamo rimasti solamente con il micro uzz in mano a posto con eleganza siamo arrivati oh oh chissà se questo qui l'hanno sistemato poi che toglieva la stabilità dicevano ehi uno per uno dai ok prima partita che ho fatto ho trovato tutto non credo sia valida mi è sembrato di vedere un gatto allora facciamo così ok finché non trovo il caro il lutto non è buono è molto vero sbagliato ho sbagliato ah molto bene molto bene ma allora non sono l'unico che ha scaricato siamo pazzi non sono l'unico che ha scaricato il test dei server che ricordiamo si l'ho scaricato perché me l'ha detto Manu però Manu fa schifo e non mi va di dargli le quote sbarro ah si mi ricordo mi hanno spadellato grazie Giallo mi scuso per il disturbo sono il gatto ma se ma sei sono sei che non sono sette mi ha sparato dal culo però grazie che paura Lars arrivo aspetta aspetta Lars adesso arrivo Lars lo vedete io non lo vedo ho paura Lars dice ciao gatto ti seguo da un po' e finalmente e finalmente posso donarti innanzitutto ho preso molto i tuoi video grazie e continuo così vorrei iniziare a streamare su Twitch hai qualche consiglio per chi inizia da zero non fare sette miliardi di ore fai una o due ore al giorno per cominciare fisse sempre tutti i giorni o a cadenza fissa ma qua è sfondata la porta sì costante c'era un'altra cosa che volevo dire ma non sono scordato ah intrattieni come se avessi un sacco di persone e datti tempo datti tempo e non rosicare perché magari all'inizio non ottieni tutti i giochi che non ha senso non ha senso rompere i coglioni o domandare la cosa la cosa principale secondo me degli streamer che purtroppo in Italia manca e manca veramente tanto è un pochino di umiltà è un pochino di umiltà eh già credo che i adesso adesso vi dico grazie Void eh già credo che sia indecente i requisiti che ci sono adesso per diventare partner per me sono indecenti sono prima di tutto ingiusti per le persone che l'hanno presa correttamente all'epoca perché adesso per diventare partner bisogna mi pare streamare 12 volte in un mese 12 volte non sono sicuro quello di cui sono sicuro è che servono 12 scusami una media di 75 persone contemporaneamente in live è una media bassissima ragazzi è una media bassissima e per me è indecente questa cosa qui perché io sono diventato scemo vi ricorderete che era 500 il limite quando l'avevano chiesto a me e non me la davano la partner era 500 poi 500 era altissimo per carità non dico che debba essere uguale la cosa però 75 che cazzo vuol dire dai 75 persone è niente ho capito che in Italia non ci sono così tante persone su Twitch e infatti sto cercando di portare di portarle però 75 è nulla oh ah ma io c'ho questo ok mi rimetti buono e e e nonostante questo c'è gente che comunque si lamenta perché magari non ottiene i giochi in anteprima non ottiene qualcosa o qualcosa ma questo qui che cazzo me ne faccio io e a me dà troppo fastidio perché già io non io non faccio grosse pretese e sono praticamente il numero 2 cioè Karim e sono io credo più o meno di essere a livello cioè adesso è arrivato anche Marcus Krohn però lui stream ma meno di me quindi comunque credo di essere sempre il numero 2 che tristezza e sono comunque il numero 2 di Twitch Italia e figa non ho le grandi pretese che hanno invece le persone che sono divertate partner l'altro giorno a me sta cosa dà profondamente fastidio perché serve un po' di umiltà perché non è giusto insomma madonna mia arrivederci allora se vado lì la moto non c'è sono morto sono morto sono morto sono morto sì me l'ha rubata porca troia porca troia no niente sono mortissimo bestia no dai che sfiga cavoronto sei come il numero dei miei occhi che strano e le si vuole bene Gattaus e come sempre ficanzi in abbondanza grazie mille non è la tua moto quella no 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 non era la mia moto perché la mia era un sidecar però non c'era sì adesso non volevo fare le cose va bene Beltram grazie comunque comunque un po' di umiltà per cortesia dico a voi un messaggio anche per tutti gli altri streamer che pretendono pretendono dai già l'italia è un mercato piccolino se stiamo qui anche a farci la guerra dei poveri che figura ci facciamo anche solo tra di noi insomma olio cuore bravissimo la prima volta wow date date tempo al tempo anche perché ho capito che le aziende però adesso non stanno investendo su Twitch perché non sanno neanche come fare investire su Twitch perché Twitch ti fa vedere mille persone tutte assieme ed è un cazzo un mio video su YouTube ne fa 40.000 e dice eh quelle lì sono di più però in realtà non sono mille persone perché ci sono refresh delle persone quelli che se ne vanno quelli che tornano è tutto un magna magna grazie Butteo non scrivo niente non perdo la speranza no dai sto perdendo dei bei tocchettoni di vita avete visto che belle le barrette che ti fanno vedere fin dove ti puoi curare molto carina come cosa adesso mi prendo però delle botte sui denti e uso eh vabbè ho capito c'è messo una vita però a usarlo questo contro l'ugorio della vita moderna fin là giù potrei farcela eh non lo escludo potrei farcela spero di potercela fare il problema è che arrivo lì e muoio facciamo così fortuna che l'ho raccolto e riparto dovrei farcela non so poi come farò però almeno dovrei salvarmi la vita in questo giro sinar questa nuova versione eh l'ho appena fatto partire non ti so dire mi sembra uguale con qualche miglioramento comunque che è quello che volevamo eh che era quello che volevamo che è quel manicolto che ti butta del sugo in faccia uh fortunatamente la safe non è poi così distante qui sono un po' in mezzo al cacca vabbè però intanto ci sbrighiamo dai fortuna che avevamo un po' di bibite un po' di cose adesso inciampiamo tra poco inciampiamo tempo di arrivare nella safe e inciampiamo e si facciamo questo lavoro qui e questo lavoro qui dicevo utile la barretta sotto perché ti fa capire quando puoi usare delle bende piuttosto che un medikit per non sprecare troppo è comoda quella cosa lì grazie a Nintolo mille di questi mesi meno 1998 al traguardo tu sei divertente e grazie anche che puttana che puttana non sapevo dove fosse però decimo mi fa vedere la killcam oh bello 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 fammi vedere fammi vedere aveva il silenziatore ecco perché non lo sentivo guarda lì che imbarazzo dai scusami scusami un attimo ma lui non vedeva l'erba però scusami un attimo dite che la killcam non lo so magari l'erba è possibile è possibile è possibile no non è vero che l'erba viene renderizzata solo per alcuni metri non è vero non è giusto non mi avrebbe visto se ci fosse stato l'erba infatti non avrebbe dovuto vedermi no figa la grafica al minimo non credo spero non sia come H1Z1 che bastava tenerlo al minimo è una merda a parte il fatto che non è vero perché dalla grafica non era male come giocava lui dopo un 70 metri ho capito che sparisce l'erba però figa non avrebbe dovuto vedermi non ha senso il grano te lo fa vedere esatto cioè non puoi vedere uno così in mezzo al niente no a me non è mai capitato almeno grazie a Cirri e grazie anche a Cat è che lei è talmente bello che la si nota subito grazie funziona così il culo comunque fa schifo io non ho mai visto uno correre così senza vedere l'erba sotto anche mettendo all'o il foglia grazie però cazzo è una merda se è così scusami un attimo per carità non mi sarei mai salvato perché comunque lui c'aveva il silenziatore era distante ho corso intorno come un pirla l'erba vicino si vedeva e infatti non boh io non capisco sinceramente eh non dovrebbe funzionare così neanche con la grafica a basso faccio una prova dai grafica fogliame per carità ok a parte che adesso mi scatta oh oh il lag che bellezza ho capi ho capito gabriel ho capito ci ma la accetto quella cosa lì però non mi doveva vedere mi fa cacare il fatto che lui mi vedesse così bene dai ho capito che i dettagli dopo un po' spariscono certamente altrimenti il gioco dovrebbe caricarlo tutto e non funzionerebbe bene è ovvio questa cosa qui però cioè fai in modo che sparisca anche il povero Cristo che è in mezzo all'erba che hai tolto o quantomeno mentre il tipo mi mirava fagli comparire l'erba in mezzo eh no infatti corno infatti il parametro dalla distanza da visualizzare eh no perché se abbasso quello lì vedo meno distante adesso vediamo adesso vediamo solitamente da che mondo è mondo in qualsiasi gioco nella killcam non vedi con la qualità dell'avversario ma con la tua anche questa è una cosa vera e anche questa è una cosa vera infatti infatti è vero cioè e quindi come la devo prendere questa cosa qui gioco di merda eh certo che l'ho provato a fortnite fate un giro sul canale Bert ma anche qui l'ho provato anche in live e dovevo scendere dove c'era dell'erba vabbè andiamo sul cucuzolo della montagna e da qui vediamo un po' la situa eh ho capito bisogna fare però cioè comunque che sia il gioco o meno fa schifo sta cosa qui perché basta stare un attimino distante e vinci non mi va bene è la killcam che carica bene attorno al gioco allora questo secondo me è più probabile sai secondo me è la killcam che non ha caricato tutto piuttosto che fosse lui e non vedermi cioè piuttosto che fosse lui e non vedere l'erba guardiamo il fogliame ad esempio vedete dove c'è la roccia è distante però io la vedo la vedo la roba credo fosse la killcam credo che fosse semplicemente la killcam dai e che cazzo e raccogli e aspetta per forza c'è l'inizio della partita che deve laggare come la merda e non ha raccolto niente questo devono sistemare questo devono sistemare non è possibile non è possibile che uno a inizio partita debba premere otto volte e fa non prende niente non prende niente quello devono sistemare eh usi tab ma è uguale col tab sai inizio partita non cambia niente non cambia nulla perché c'è il social mouse oh ok adesso va bene perché prima con friday night ho dovuto abbassare la sensibilità che era al top la killcam per quella morte ti serviva eh non è stato un cowboy onesto col tab mi sono sempre tornato da dio io inizio partita sempre sia col tab che raccogliendo a mano ci metteva sempre un sacco cioè vedi ha girato la mano tutta rotta lì ho visto la killcam fa diventare playera non come il processo di biscardi giusto non è tradotto vincitore vincitore gallina cena ma ho purgato tutti si si erano i dpi per carità però non c'entra niente con non c'entra niente con la la mia morte di prima manca solo il mo' violone siamo pronti per gli sport abbiamo anche uno strumento per fare dei talk show di altissimo livello ho purgato tutti suona veramente male ma l'hanno messo così che dobbiamo va che bello l'aereo per adesso mi pare uguale si 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 purgato tutti viene hanno abbassato l'audio di quando ti butti dall'aereo ma le migliorie sono veramente poche sono qualcosina mi vendo poteva lasciare in inglese ormai è abbastanza iconico assolutamente si totti dice ho purgato tutti non va più in fiamme l'aereo ma quello non lo so dipende se andava in fiamme uno dentro non so se l'hanno sistemato semplicemente non e adesso l'ha raccolto tutto la prima botta ha laggato dopo giustamente guarda che c'è scritto modalità e l'aerea guarda guarda là che fastidio là la gola perdonatevi l'aereo non va più in fiamme da un mesetto sei sicuro salvadores stavolta ti ho aspettato magic credo che la differenza nel foliage sia semplicemente che non vediamo gli alberi muoversi sapete no guarda guarda se adesso metto ad alto era ultra vedete che non cambia una sega no no ma non è non è bisognerebbe trovare un 4x bisognerebbe anche capire se c'è non è il foliage è la distanza di rendere che di visuale vediamo un attimo vedi distanza io ce l'ho molto bassa mi pare ugualo mi avvicino e gli alberi diventano di merda ma in realtà cambiano gli alberi quando ti avvicini guarda madonna mia mi pare tutto uguale sai aspetto ad avere un milione eh beh certo si però che è fastidio che le cose mi cambiano davanti agli occhi c'è il pop up degli alberi si ma fa schifo dover giocare con la grafica bassa per vincere ah no scusa mi vendo non c'è neanche un campo di grano è chiuso quello lì è quello aperto è il tunnel buono quello no non ci gioco a fortnite fortnite fa schifo quindi se vuoi se vuoi riformulo magari per essere un po' più politically correct fortnite mi fa schifo ma tanto proprio mi fa veramente cagare ribrezzo mi fa fa schifissimo se volete giocare giocatevelo a me fa cagare accetto che mi diciate che fortnite è più bello di player non solo se avete comprato player non e ci avete giocato esagerato i miei coglioni perché perché sparare gnugno non mi piace sparare adesso non che player non sia il gioco della vita per carità per quanto riguarda sparare anche lui le sue magagne però almeno non sparo dei colpi nerf si sparano ma io non so sono perduto c'è un cazzo comunque da lutare zainello tiè colpi popò meglio di niente c'è un ump figa altro che meglio di niente dai e dai bravo però mi fa schifo la distanza di rendering così mi vendo eh cazzo c'è il mini però non c'è i colpi comunque fortnite proprio non mi convince e potrebbe quella no è rotto che sfiga e potrebbe essere meglio se sistemano un attimo la sparatoria diventa meglio e ripeto che comunque tutti dicono fortnite ma non non giocano a fortnite perché fortnite non è quello coglioni la gente che non sa che cosa sta giocando eh che te devo dire amico facciamo così com'è ah sentivo la macchina dietro mi vendo perché rita alla fine sono no no ma non ragazzi io non discuto i gusti se ti piace di più fortnite vai con dio mi va bene non ti sto non voglio assolutamente giudicare i vostri gusti o le vostre preferenze se preferisci fortnite per carità giocati a fortnite io non voglio quello che dico io e che continuo a ripetere è che un sacco di gente critica player unknown o comunque dice che è meglio fortnite solamente perché fortnite è free to play e giocano solo a quello e mi sono rotto i coglioni intanto dei free to play perché se se facessi uscire un gioco a pagamento la metà delle volte la metà non sempre ma la metà delle volte lo stesso gioco pagato diventa bellissimo invece free to play è sempre un po' gnugno non è una regola ma succede spesso secondo perché c'è la gente che compare le due cose e ovviamente ti dice che è migliore quella gratis perché hanno giocato solo quello vediamo le impostazioni cambia il feed in alto a destra e prova le nuove che sono molto belle rispetto alle scritte normali adesso le feed impostazioni come faccio? in gioco? no? intanto rimettiamo la distanza di Henry che mi dava fastidio applica dove è che devo andare? il link di Amazon basta scrivere punto esclamativo giorni neri tutto attaccato e ti ciccia fuori tutto ecco anche Overwatch e Paladins sono due ottimi esempi anche quelli sono due ottimi ottimi esempi perché va benissimo porca troia oh appena l'ho visto però li ho sparato dritto eh questo non mi si può dire poi non l'ho neanche colpito una volta però almeno l'ho vi fammi vedere ah sbaglio o laggava un po' l'amico qui mio dio ah da lui neanche ho sparato allora mi avete visto sparare eh ma avete visto sparare mi avete visto sparare tutti ho fatto l'ultimissima proprio mi avete tutti visto sparare da lui neanche questa killcam questa killcam ci dà molte soddisfazioni per carità sarei morto uguale ripeto però però come in realtà non ho sparato sì che ho sparato Nathan ostia sono pazzo come non ho sparato come non ho sparato ero sicurissimo di aver sparato almeno un colpo non sono matto chiedo scusa a tutti la mia pazzia mi si è insinuata nel cervello io non lo so ero sicuro di aver sparato io ho sparato ah due colpi abbiamo replay me lo fate me lo fate il clipino per cortesia un solo colpo sì ma ho sparato ho sparato un colpo ho sparato un colpo andiamo a vedere andiamo a recuperare il clipino della live per cortesia allora andiamo a vedere andiamo a vedere adesso vado a vedere voglio vedere queste cose vanno risolte si fanno si fanno in famiglia allora che non è che non è che non è che non è e che cos'è buongiorno genjoy sono nobile ci vuole bene gattone grazie mille e gatto shoot first fai vedere clip vediamo vediamo il mio violone allora di tendenza vediamo se qualcuno l'ha fatto al momento non ce n'è nessuna qui vediamo da gestisci clip che in teoria mi fa vedere tutte tutte mi mando date di creazione visualizzazione clip del mio canale ecco qui ecco qui vediamo un pochino vediamo un pochino due minuti fa due minuti fa vediamo sto riosservando sto riosservando aspetta mi da fastidio che mi sto risentendo mi muto perché se no non riesco a parlare vediamo un po' allora sono qui che sto guardando per terra qui mi sta sparando mi giro lo miro e ho sparato un colpo l'ho sparato si vede al pelo ok ho giocato prima paladins e poi over penso che siano due giochi validi per entrambi no ma lascia perdere quello il discorso non è quello le preferenze o le non preferenze quelle sono cose che ti vengono in base a quanto giochi o quanto ti piace o quant'altro e va bene il problema il problema è che la gente molto spesso gioca solo dei due dei due giochi identici gioca solo quello gratis e ti dice che è meglio ed è sbagliata questa cosa qui è sbagliata perché rovina soprattutto il mercato dei videogiochi perché se tu chiedi ad uno che ha giocato un solo gioco ti dice che è meglio quello lì però cazzo su cosa come fai a basarti perché se tu mi rispondi poi dopo perché l'ho visto in live da gatto ed è una merda per carità io mi lamento sempre di questo gioco però da lì a dire compralo ma oddio mio da lì a fare della mia opinione la mia idea la stessa identica tua ce n'è perché per carità io vi do la mia opinione su tutti i giochi che gioco chiaramente vi faccio delle mini recensioni però dopo il gioco lo dovete giudicare voi non posso decidere io per voi cosa vi piace cosa non vi piace e soprattutto dovete giocare un pochino tutto capisco che magari non tutti possano permettersi di comprare tutti i giochi che escono assolutamente però nessuno vi obbliga nemmeno ad esprimere un giudizio riguardo se una cosa ti piace tanto è normale lamentarsi minchia è molto vero anche questo buono raccogliamo queste faccende oh 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 si 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 oddio va bene accettabile allora mi voglio sbilanciare dire che hanno forse aggiustato un pochino di loot mi sbilancio ho esagerato perchè effettivamente in tutte le partite che ho fatto ne ho fatte 3 o 4 non mi ricordo ho trovato almeno roba non tantissima scusami e le texture macchina e tutto questo siamo partiti perchè uno mi aveva chiesto consigli per lo streaming e come si fa quindi umiltà e farsi opinioni proprie tra l'altro un altro problema di voi giovani è che vedete uno stile grafico simile e fate troppo presto secondo me a dire somiglia a questo somiglia a quella adesso mi pareva forse con gigantic ho fatto ho fatto video di gigantic che è un moba un po' al contrario dove tu sei il minion praticamente e tutti mi hanno scritto non tutti fortunatamente ma un sacco di gente mi ha scritto vabbè questo è paladins dei poveri a parte il fatto che paladins è overwatch dei poveri e non perchè sia meno brutto ma perchè è lo stesso gioco ma gratis più o meno lo stesso gioco secondo tu non mi puoi accomunare gigantic a paladins a paladins non lo puoi fare sono due cose sono troppo diversi non accetto cioè per carità lo stile cartoon è simile alcune scritte sono simili perchè lo stile è quello però figa il gioco è tutta altra roba lo studio di attore gigante che ha chiuso ma come tutto quello che Microsoft tocca grazie Dylan Dog ehi la gattone come la va è bene è bene quindi cazzo cos'è 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 questo con questi si come questi ho buttato in questi cos'è è l'arma nuova non era dentro un rai dopo allora bene facciamo così vedremo ce l'ho già e grazie anche a Matt Gamer che si è subato per la prima volta in questo momento con Amazon Prime spara i film è perchè fate la stessa cosa anche voi streamer per scherzare quando c'è un'atmosfera cupa in qualsiasi gioco è Dark Souls oddio si ma lì è per sparare minchiate Gabriel tra l'altro Frozen mi ha rubato l'idea per un video anche se io non avevo detto quell'idea per un video a nessuno in realtà che ormai tutti i giochi difficili sono diventati Dark Souls ma perchè non è vero cosa c'entra hanno accomunato cappe da Dark Souls ma perchè mai perchè mai di porca miseria grazie anche a Figen però figa io dico le minchiate e a parte che mi prendo insulti è troppo cazzone dice le stupidaggini quello lì non lo si può prendere sul serio che ok lo accetto però figa c'è gente veramente che accomuna Dark Souls a qualunque è puttanata che coglioni perchè è facile mettere Dark Souls in bocca alla gente no palle ho capito però cioè come ho detto prima porco cane fammi sparare almeno una volta prima ma è niente ero andato anche in pre-fire ma niente mi è passato davanti non ne ho fatto un cazzo sono proprio no adesso voglio vedere la killcam mi sta vibrando tutto lì cosa succede oddio mio ma perchè scattano tutti è il momento che io faccia la pipì però però stiamo qualcuno stiamo qualcuno anche questa sera dai 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 facciamo un bel ride di quelli belli di quelli che ci piacciono ovviamente non italiani perchè come vi ho detto prima non sono abbastanza umili per i nostri ride quindi vediamo vediamo chi far crescere vediamo chi far crescere in questo momento fammi vedere fammi vedere c'è qualcuno che fa del cibo? qualcuno che fa del cibo? attenzione vediamo qualcuno che fa cibo in italiano ovviamente nessuno fa cibo mannaggia loro no c'è ancora chaotic no stasera qualcun altro qualcun altro dai non possiamo mi costare sempre lei cosa cosa c'è cosa c'è cooking with family vediamo un po' mashed potatoes ma questo qui mi sembra troppo pro ah si mi ricordo ah dai 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 va bene dai ostiamo questo bel pelatone e gli rideiamolo rideiamolo ah si mi ricordo eccolo qui ok allora ride lui grazie a Dent a Dent X Tony e grazie anche a Cipollino grazie andate tutti a scrivergli I like spaghetti I like spaghetti ma come Gabriel faceva la live aspetta fermi tutti non sono perso ah no non è vero ho visto male chiedo scusa I like spaghetti dal pelato perdonatemi sarebbe stato orribile altrimenti che non mi ha detto niente no 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 ho visto male scusatemi scusatemi ah perché ho detto pelatone buonanotte a tutti a domani lo gioinate tutti il canale quello lì grazie a tutti